60 carabinieri del Comando Provinciale di Catania, unità cinofile, militari dello squadrone eliportato, cacciatori Sicilia e della compagnia di intervento operativo del XII Regimento Sicilia, un elicottero. Un dispiegamento di forze imponente questa mattina alle prime luci dell'alba per dare esecuzione a Bronte ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un provvedimento che trae origine da una complessa indagine condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Randazzo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, grazie ad attività tecniche e servizi di osservazione sul territorio che hanno consentito di accertare l'esistenza di un'organizzazione ben strutturata finalizzata alla detenzione e alla vendita di marijuana nella città di Bronte e nei territori limitrofi. Le indagini si sono svolte tra il mese di febbraio e quello di novembre del 2017 e hanno consentito di monitorare le dinamiche della piazza di spaccio definendo i ruoli ricoperti, le modalità e i luoghi in cui veniva nascosta la droga. In particolare si è accertato che la sostanza era custodita all'interno di immobili rurali e terreni in modo da eludere gli accertamenti in ordine alla riconducibilità della droga all'organizzazione in caso di sequestro. Lo stupefacente proveniva non solo dai paesi limitrofi ma anche dai quartieri catanesi di Librino e del villaggio Sant'Agata.